e mi sto immaginando tutto quello che può capitare certo che in questo momento non posso immaginare di essere e non vorrei essere in questo momento dei panni della Todd strano, strano cioè cavoli, presidente di una regione ho capito ma ci sono anche tanti cavoli ma capri cavoli di questo tipo appena si è insediata neanche quello quando mai ce lo si aspettava? l'aspettavi tu? che mi stai guardando? se l'aspettava lei che mi sta guardando in questo momento eh? che mi sta ascoltando? che mi stai ascoltando? cavoli, arriva la Todd ehi, sono qui presidente in pector allora, programma come? come 200 delibere ma che fa quello? oh, elimina le delibere, Solinas che vuoi oh? ma devi eliminare le delibere io adesso sono presidente ma quando io ho deliberato tu eri ancora sotto elezioni sono ancora tutt'ora io presidente della regione quindi aspetta un momento le delibere ormai sono andate ma non lo puoi fare non mi posso insediare così ultima riconteggio non si è capito? allora ragazzi riguarda il conteggio ufficiale sì, è ufficiale il riconteggio va là Fratelli d'Italia però ancora non chiede il ricorso vuole guardare vuole aspettare ancora un momento e ancora stanno ricontando ma non si è capito nulla cioè da 2007 è sicuro che si è abbassato a 1500 voti sono 1100 sono tantissimi altri invece secondo la stampa e non solo la stampa sono ora 600-800 voti ho già pubblicato il video in merito andatelo a guardare a bestia ognuno di noi in altri 600.000 iscritti attivate sempre a bestia sotto la campanella per ogni aggiornamento super grazie a ognuno di voi ehi 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 io non sono promeloni non me ne frega niente dall'altro non è mica la mia ragione quindi se la Todde ha vinto lei e continuerà a rimanere in vantaggio che siano anche 200 voti 100 voti due voti di scarto un voto di scarto ha vinto lei le grandi città sono per la Todde ok confermato e invece i fortini del centrodestra dei paesi delle città più piccole di provincia della Sardegna sono andate a Truzzo solo che ora sta cambiando anche nelle grandi città la situazione ed ecco che la Todde fa sapere comunque oltre ad attaccare il governo che secondo il Movimento 5 Stelle secondo lo Stato della Todde no 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 ma questi come si permettono di fare il riconteggio non sazzarti ma non lo possono fare non hanno detto nulla si sono complimentati anzi con la Todde appena è stata nominata appena è stata eletta che altro ora fanno sapere che no non ci sarà nessun ribaltone ma in realtà il ribaltone c'è già pure se è ancora in vantaggio c'è già una mezza specie di ribaltone non è normale che da 5.000 voti a 2.700 e ora 1.500 forse 600 800 forse meno qualcosa non è andato per il verso giusto forse qualcuno qualcuna ha voluto fare il furbino o la furbina non si sa bene certo che è un caso e ne stanno ora parlando tutti oh via tra una settimana qui si parte da me in Abruzzo per quanto riguarda le regionali santo Dio se dovesse succedere di nuovo anche qui una cosa del genere ragazzi cioè bisogna riformulare tutto quanto a questo punto per quanto riguarda le votazioni e il sistema elettorale secondo me la Todde rimane lì cioè non è che rimane è presidente punto anche per un voto ora bisogna vedere se fratelli d'Italia però voleva e ci sta pensando seriamente sul serio ha il diritto di chiederlo il riconteggio ufficiale dalla A alla Z da 1 a 1 milione e 8 quelli che sono gli abitanti della Sardegna ditemi la vostra nei commenti grazie